Urca ben urca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Ragazzuoli oggi sono qui perché in questo video come avete letto dal titolo e visto dalla copertina Sono qui per parlarvi della collaborazione tra Samsung e Fortnite ragazzuoli Perché come potete vedere qui dalla foto che vi sto facendo vedere ora a schermo Eccola qui ragazzuoli E' stato praticamente presentato qualche oretta fa il Samsung Galaxy S10 Ragazzuoli sono le 22 del 20 febbraio E sto registrando questo video appunto qualche oretta dopo il rilascio dell'appunto Samsung Galaxy S10 Ragazzuoli lo vediamo qui in questa foto veramente stupendo ragazzuoli Niente da dire Ovvio il prezzo è sempre quello che è perché costerà intorno ai 1000 euro per il plus e 900 qualcosa per quello normale Però ragazzuoli è veramente stupendo niente da ridire Per oggi ragazzuoli non sono qui per appunto farvi vedere le specifiche del Samsung Galaxy S10 Ma sono qui ragazzuoli per parlarvi come ho già detto all'inizio video della collaborazione tra Samsung e Fortnite Infatti ragazzuoli con la presentazione del Samsung Galaxy S10 Fortnite ha presentato una nuova skin che appunto andrà a tra virgolette eh Ricompensare tutte le persone che compreranno appunto questo Samsung Galaxy S10 Per compensare 1000 euro di cellulare con questa skin io sinceramente avrei messo anche Davey Bucks Non so se in futuro magari Fortnite appunto deciderà con l'uscita del Samsung Galaxy S10 Di aggiungere oltre a questa skin quindi di creare praticamente un pacchetto Davey Bucks ragazzuoli Perché secondo me spendere 1000 euro per un cellulare quando vuoi magari prenderlo sia perché è bello il cellulare Sia perché appunto c'è questa skin iconic direi che Davey Bucks anche solo 1000 andrebbero più che bene Sarebbe in realtà giusto farne 14.000 Davey Bucks che sarebbero 100 euro almeno per compensare un pochino Però vabbè ragazzuoli forse sto esagerando un po' io Ed ecco qui ragazzuoli la migliore immagine che sono riuscito a trovare riguardante appunto la conferenza Che in realtà non so bene dove si sia tenuta Della presentazione di questo Galaxy S10 Plus Qui ragazzuoli parla solo di Galaxy S10 Plus e non di Galaxy S10 Ma penso che comunque ci sarà anche lui raga fidatevi E niente ragazzuoli quindi io spero che il video vi sia piaciuto E' stato un video abbastanza breve giusto di informazioni ragazzuoli E mi raccomando ragazzuoli condividete il video con tutti i vostri amici Per farvi sapere anche a loro che appunto c'è questa collaborazione tra Samsung e Ford Che potete appunto ricevere la skin iconic e si spera anche dei V-Bucks E mi scuso anche del fatto ragazzuoli che per due giorni non ho fatto né video né live Ma ho avuto veramente dei problemi sia con l'editing video sia con la wifi Sia col rendering del barra dei video E niente ragazzuoli quindi io vi lascio con questa collaborazione tra Samsung e Ford E vi farò sapere più avanti se appunto ci sarà qualche altra news Seguitemi mi raccomando su Instagram LuciusYT Vi lascerò il link in descrizione Per appunto restare sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano Fortnite e il mio canale ragazzuoli Quindi io vi saluto Urca per l'urca tutti Grazie